Tamponi al Santissimo Rosario per gli studenti di Sernia, in coda all'ospedale di Benafro, i ragazzi della San Giovanni Bosco, intanto da oggi in vigore le nuove restrizioni disposte dal presidente Conte. I Sernia e Castelpetroso, i centri più colpiti, con 68 e 53 contagiati, sono i comuni con il numero più alto di positivi, si allarga anche la mappa, ora sono 59 i paesi raggiunti dal virus. Torsi intercettato, datemi 10 milioni e vado via, gli audio del finanziere molisano che chiede soldi per uscire dall'affare del Palazzo di Londra, la registrazione pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Domani i funerali di Sara Favia a Termoli nella cattedrale, l'addio alle 16 alla 17enne morta nell'incidente di San Salvo, nessuna autopsia, indagato il ragazzo alla guida. Rally del Molise, poker di Giuseppe Testa, per il quarto anno la corsa vinta dal pilota di Cerce Maggiore, nel calcio vincono Campopasso e Vasto Girardi, ancora sconfitto Lagnone a zero punti. Edizione delle ore 14 del nostro telegiornale, buon pomeriggio e bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. In apertura ci occupiamo del coronavirus perché sono 38 i nuovi casi in regione, ben 59 i comuni colpiti, soprattutto quello di Isernia e di Castel Petroso. Ma facciamo il punto della situazione con Enzo Luongo. Con la seconda ondata del virus e quasi 400 casi positivi presenti attualmente sul territorio regionale, cambia rapidamente la mappa del contagio in Molise. In appena tre giorni sono saliti a 59 su 136 i comuni dove si registrano casi di covid. Erano 50 prima del fine settimana appena trascorso. Ecco le situazioni più gravi. In testa c'è Isernia con 68 contagiati, poi Castel Petroso dove si è registrato il caso del funerale diventato a focolaio. Mai dall'inizio dell'emergenza in un paese molisano si era avuta una situazione simile, ben 53 casi su 1600 abitanti. Poi Campobasso con 30 casi, Venafro con 25, Termoli con 20 e Boiano con 18 casi. Seguono decine di altri comuni che hanno comunque sempre meno di 10 positivi e in alcuni casi anche un solo contagiato in paese. Quanto all'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM, a fronte di 736 tamponi e nelle ultime 24 ore ci sono 38 nuovi positivi. 12 le persone ricoverate in ospedale, cosa che non accadeva da mesi, ma sono tutte in reparto di malattie infettive e nessuna in terapia intensiva. Vediamo infine un riepilogo dei dati dall'inizio dell'emergenza. In otto mesi in Molise sono stati processati 52 mila tamponi. Le persone che si sono ammalate sono state quasi mille. 569 sono guarite, 26 non ce l'hanno fatta. E adesso continuiamo a parlare del coronavirus perché ci occupiamo delle situazioni più delicate. I Sernia è una di queste. Gli alunni della San Giovanni Bosco oggi si sono recati presso l'ospedale di Venafro, presso il Santissimo Rosario, per effettuare il prelievo del tampone che in molti casi in questa circostanza è da ripetere. Con loro ci sono stati anche tanti genitori che invece avevano polemizzato sull'accaduto. Ma ci dice tutto nel servizio. Enzo Di Gaetano. Venafro continuano a ritmi serrati i tamponi disposti dall'ASREM sui centri della provincia di Sernia che registra nel cluster dell'Istituto San Giovanni Bosco la scuola più colpita dal covid. Sospesa infatti fino al 26 ottobre la didattica in presenza dell'intero polo scolastico con l'ultima ordinanza del sindaco che interessa la scuola secondaria di primo grado Andrea Di Sernia e parte della primaria San Giovanni Bosco. Finora sono già stati accertati circa una trentina di casi tra studenti, docenti e personale scolastico. Ma ora ascoltiamo la voce dei genitori in fila davanti al punto di prelievo al Santissimo Rosario di Venafro. C'è un po' di sorpreensione, uno si mette paura al discorso. C'è un positivo in classe di mio figlio, abbiamo dovuto portare il ragazzo a fare il tampone. Eravamo in molti e abbiamo dovuto aspettare. Si deve vivere con attenzione, un po' di timore ci sta, però con attenzione va molto bene. Se ci sono le precauzioni forse riusciamo a sconfiggerlo questo virus. E tra tamponi e file continua la chiusura delle scuole nella provincia di Isernia. Sospese infatti le attività didattiche in presenza per la giornata odierna al cuoco di Isernia per un altro caso. Stoppa le lezioni anche per l'istituto Giornano di Venafro che le sospende fino al 24 ottobre per la messa in quarantena di ben 59 docenti. Lezioni a casa anche per gli studenti della primaria e secondaria di primo grado di Monteroduni fino al prossimo 25 ottobre. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Intanto dal comune di Castel Petroso arriva la precisazione in merito ai casi accertati in paese secondo la quale i contagi riconducibili a quello che viene definito il cluster del funerale sarebbero solo una decina. Tutti gli altri dicono dal comune sarebbero collegabili a eventi accaduti in ambito familiare o in relazione a cluster noti della provincia di Isernia. Dal comune tuttavia arriva l'appello al senso di responsabilità ai cittadini di Castel Petroso e di osservare in maniera rigorosa le disposizioni anti contagio. E una buona notizia invece arriva da Santa Croce di Magliano dove sono risultati negativi anche i secondi tamponi effettuati agli ospiti e a tutto il personale dell'Istituto Sacro Cuore. Lo ha comunicato il sindaco Alberto Florio su Facebook facendo sapere che la struttura potrà riprendere le normali attività e raccomandando la popolazione a non abbassare la guardia al rispetto delle norme per il contenimento del contagio. E continuiamo ad occuparci sempre di coronavirus però sul fronte delle notizie nazionali. Firmato dal Presidente del Consiglio Conte il nuovo DPCM per frenare la curva dei contagi. Tra le novità introdotte la chiusura alle 21 di strade e piazze dove si creano assembramenti. ma dopo la presa di posizione del Lanci non dovranno essere i sindaci a dover intervenire. Ci dice tutto nel servizio Anna Maria Di Matteo. Bar, ristoranti, scuola, sport e nessun riferimento ai trasporti. Il nuovo DPCM firmato dal Premier Conte per arginare la curva dei contagi da coronavirus punta la sua attenzione soprattutto su questi settori. Una nuova stretta per evitare, ha detto a chiare lettere il Premier, un nuovo lockdown generalizzato del quale non voglio neanche sentire parlare. La situazione critica ha aggiunto nel corso della conferenza stampa tenuta ieri poco dopo le 21. Il governo c'è ma ciascuno deve fare la sua parte. Ha sottolineato, riferendosi al rispetto da parte dei cittadini, delle regole imposte per frenare il contagio, mantenimento del distanziamento personale, l'uso delle mascherine anche all'aperto e lavaggio frequente delle mani. Ma vediamo quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto. Bar, dalle 18 sono aperti solo con servizio al tavolo. Ristoranti, aperti dalle 5 alle 24 con numero massimo di 6 persone al tavolo. Tutti i ristoratori affiggo nel numero massimo ammesso nel locale. Vietato l'asporto dopo la mezzanotte. Coprifuoco, il testo definitivo prevede che dalle strade o le piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21. E' dunque sparito il riferimento al potere affidato ai sindaci di far scattare il coprifuoco dopo la levata di scudi del lanci che aveva parlato di scarica barile. Vietato lo sport di contatto, permesso quello individuale, palestre e piscine, una settimana per capire se le regole anti-contagio sono rispettate grazie all'incremento dei controlli. Eventi, sia manifestazioni fioristiche di carattere nazionale e internazionale. Chiusura delle sagre e feste di paese. Smart working non è stata fissata a una percentuale ma è richiesto di utilizzarlo laddove è possibile. La scuola, continuano le lezioni in presenza mista alla didattica a distanza con ingressi scaglionati per gli istituti superiori dalle 9 ma anche con turni pomeridiani. Università, incentivo per massimo utilizzo della didattica a distanza e grande autonomia di decisione alle facoltà. Chiuse dalle 21 le sale bingo e centri scommesse e slot. Il provvedimento avrà validità fino al 13 novembre. E adesso vediamo le immagini di quanto accaduto stamattina in via Pisa a Campobasso, a ridosso del centro storico dove una donna è precipitata dal balcone della sua abitazione al terzo piano di una palazzina cadendo nel cortile interno all'edificio. Sono in corso indagini per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. la donna è stata soccorsa dal 118 e si trova ora all'ospedale Cardarelli in gravissime condizioni sul posto per tutta la mattina. Sono proseguiti i rilievi della polizia scientifica che ha effettuato accertamenti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. La procura di Vasto ha deciso di non effettuare l'autopsia sul corpo di Sara Favia, la ragazza di 17 anni di Termoli rimasta vittima di un incidente sabato sera sulla Statale 16. Il ragazzo di 18 anni che guidava la Panda è indagato per omicidio stradale, strazio e commozione a Termoli per una tragedia che ha toccato profondamente tutta la comunità. Ascoltiamo Manuela Iorio. Non ci sarà l'autopsia sul corpo di Sara Favia, la ragazza di 17 anni di Termoli che sabato sera è rimasta vittima di un incidente sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. Lo ha deciso la procura di Vasto che insieme ai carabinieri si sta occupando delle indagini sul drammatico schianto che ha spezzato la vita e i sogni di una 17enne. L'amico alla guida, un ragazzo di 18 anni fresco di patente, è ora indagato per omicidio stradale. È risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol e droga che per prassi si fanno in questi casi. I militari stanno ancora definendo i dettagli della dinamica ma sotto accusa ci sarebbe la velocità. La panda è finita dritta sopra la rotatoria della Statale, poi contro una ringhiera e il pilastro di cemento del Cavalcavia. Sara era seduta sul lato posteriore destro, proprio dove c'è stato il primo violentissimo impatto. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Un'altra ragazza è ancora ricoverata al Sampio di Vasto con lesioni importanti ma non è in pericolo di vita. Gli altri due occupanti, tra cui il ragazzo alla guida, hanno riportato ferite non gravi e hanno rifiutato il ricovero. Tutti amici, tutti studenti che insieme ad altri compagni che viaggiavano su un'altra auto volevano solo passare una serata spensierata e che invece si è trasformata in un incubo. Da sabato sera la comunità termolese è stretta in una morsa di strazio e dolore. Questa mattina lacrime e commozione all'Istituto Nautico che Sara frequentava perché voleva diventare capitano di una nave ma anche alla scuola media Maria Brigida dove grazie alla passione per il canto era entrata a far parte del coro Punto di Valore. Sui social è forte la commozione per una tragedia a cui non si riesce a dare un senso e che ha colpito un'intera comunità toccata nell'affetto, nel senso di impotenza e di dolore come ha scritto su Facebook proprio un insegnante di Sara. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po' di futuro e di fiducia a tutti noi. Io voglio ricordarti sempre così come in questa foto perché così ti ho conosciuta tra i banchi di scuola. I tuoi sorrisi e i tuoi occhi meravigliosi riuscivano sempre a illuminare tutta la classe e portavano gioia a ognuno di noi. I funerali di Sara Favia sono stati fissati per domani alle ore 16 in Cattedrale a Termoli. Adesso occupiamoci del caso della vendita del Palazzo di Londra al Vaticano nel quale è implicato il finanziere morisano Gianluigi Torzi e che si arricchisce di nuovi particolari. Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato un'intercettazione ambientale durante la quale Torzi avanza la richiesta di una decina di milioni per uscire dall'affare. Ascoltiamo Enzo Di Gaetano. Scandolo in Vaticano per i soldi spesi per l'acquisto di un immobile a Londra costato centinaia di milioni. Un giallo finanziario in cui è incappato il broker molisano Gianluigi Torzi e che oggi torna in cronaca grazie alla pubblicazione sul sito del Corriere della Sera di una registrazione audio che riporta il colloquio in una stanza dell'hotel Bulgari di Milano tra Torzi, un alto dirigente del Vaticano Fabrizio Tirabassi ed Enrico Crasso storico gestore delle finanze della Santa Sede. Io pensavo di gestire tre e quattro anni dammi dieci milioni e me ne vado dammi otto milioni che ti devo dire? Questo è solo un brevissimo passaggio dell'audio pubblicato dal Corriere e attribuito a Gianluigi Torzi già noto alle cronache molisane per il caso della villa al mare di Frattura La vicenda stavolta riguarda la compravendita dell'immobile di Londra che ha scatenato uno dei più grandi scandali finanziari in Vaticano L'audio dove si sente parlare Torzi è stato registrato di nascosto in una stanza dell'hotel Bulgari di Milano Ascoltiamone un breve brano pubblicato dal Corriere con la voce attribuita proprio a lui Tra i tre i toni sono alti volano imprecazioni a tratti forse millantano alludono di sicuro negoziano ci sono in ballo molti milioni intanto fra i presenti nella stanza qualcuno regista di nascosto e oggi la voce dei tre personaggi in questione è finita sul sito del Corriere della Sera nella nuova puntata del tormentone giudiziario e finanziario E adesso andiamo a Termoli trovate polpette avvelenate e piene di chiodi nel quartiere di Difesa Grande la polizia locale indaga sull'accaduto l'assessore all'ambiente Rita Colaci è arrabbiata fatto gravissimo dice ricordo che è un reato ascoltiamo Andrea Nasillo la polizia locale e le guardie ambientali sono sulle tracce della mente spietata che ha curato con dovizia la preparazione di polpette avvelenate e cariche di chiodi armi letali per gli animali nel quartiere di Difesa Grande a Termoli la drammatica scoperta due ragazzi hanno temuto il peggio per i loro cagnolini che hanno ingerito questi bocconi si sono accorte subito e gli animali sono stati salvati in extremis avvisata immediatamente Rita Colaci assessore all'ambiente del comune di Termoli che è arrabbiata e amareggiata è un fenomeno veramente preoccupante perché questo è un quartiere dove l'80% delle famiglie hanno un animale di proprietà cane o gatto che sia e molti, molti dei nostri giovani spesso portano i loro cani a passeggio in questa zona che è piena di verde quindi è una zona che invita ad avere gli animali sì, è un fenomeno che veramente si ripete da diversi anni cioè è un periodo dell'anno in cui qualcuno si diverte a disseminare polpette avvelenate a mettere cartelli di minaccia e quest'anno pare che abbiano si siano presi la briga di fare queste belle polpette di riempirle di chiodi d'acciaio quelli lunghi che servono per appendere i quadri e di disseminarli sul territorio le polpette sono state individuate alle spalle della chiesa di Santa Maria degli Angeli quasi sul ciglio della strada i sospetti quindi non mancano e gli occhi delle autorità restano vigili questo è un fenomeno gravissimo l'avvelenamento degli animali è penale per cui le persone o la persona che si è presa la briga di divertirsi a disseminare queste polpette perché davvero ci vuole una grossa fantasia andare a comprare la carne riempire queste polpette di chiodi di disseminarle sul territorio nella speranza di poter uccidere quanti più cani possibile deve sapere che è penale per cui nel momento in cui verrà individuato poi dovrà rispondere alla giustizia in merito al rinnovo della presidenza del consorzio industriale di Termoli la vicepresidente del consiglio regionale Patrizia Manzo ha chiesto che la decisione non sia dettata solo dalle pressioni politiche gli enti locali che rientrano nel consorzio e che ne subiscono il piano territoriale sono Termoli, Guglionesi e Campomarino stando alle indiscrezioni a nessuno dei tre il cui territorio ricompreso all'interno del comprensorio consortile andrà alla presidenza per Patrizia Manzo serve coraggio e tornare alla vera funzione dei consorsi industriali affinché possano svolgere l'importante ruolo di raccordo delle aziende che realizzano il sistema economico e sociale di un determinato territorio la logica della pressione politica dello scegliere gli uomini in base alle appartenenze ha concluso la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle sono dannose non producono sviluppo e limitano le possibilità di crescita di un territorio presentato a Ripa Limosani il libro di Francesca Capozza giorni di ordinaria follia quando la cronaca è nera storie tratte dalla cronaca nazionale raccontate in modo semplice dalla criminologa in modo che anche i non addetti ai lavori possano comprendere cosa è davvero accaduto ascoltiamo Patrizia Testa un punto di vista competente su fatti di cronaca realmente accaduti in Italia la criminologa Francesca Capozza presenta il suo libro giorni di ordinaria follia 21 storie di cronaca nera fatti recentemente accaduti che hanno scosso l'opinione pubblica narrano la complessità dei rapporti familiari e relazionali in genere sono storie in cui l'occhio della criminologa cerca di dare delle chiavi di lettura scientifiche che vadano oltre il senso comune e che consentano anche di fornire degli elementi di prevenzione degli spunti per poter comprendere quali siano le chiavi di promozione del benessere che consentono appunto di evitare il determinarsi di eventi delittuosi quella che maggiormente l'ha colpita di queste storie che lei ha raccontato sicuramente è la storia che prende il titolo Uccidere per non soffrire che è la storia proprio di un uomo di 47 anni che uccide i propri genitori e poi si suicida perché non riesce ad elaborare la possibile separazione dagli stessi che sarebbe potuta accadere nel momento della loro morte per tumore del padre in questo caso qui si parla appunto di una situazione in cui quest'uomo non è riuscito a realizzare quella emancipazione quella individuazione emotivo affettiva quindi psicologica oltre che materiale che doveva avvenire già in età della giovinezza della prima giovinezza indagare la psicologia individuale e le relazioni per fare prevenzione questo è lo scopo del libro giorni di ordinaria follia è stato presentato a Ripalimosani nel convento di San Pier Celestino ha dialogato con l'autrice la giornalista Antonella Iammarino direttrice di Il Gazzettino un appuntamento culturale promosso dal comune e dalla nuova proloco Ripalimosani con la pandemia in corso non possiamo portare avanti molte manifestazioni per ovvi motivi questa era una di quelle che con le dovute accortezze potevamo portare avanti senza problemi abbiamo colto l'occasione anche il modo per dare un piccolo segnale per poter fare qualcosa e stare insieme con le dovute precauzioni e instaurare perché no dei momenti di confronto e di dibattito su temi comunque importanti che troviamo quotidianamente nei casi di cronaca Nella Galleria Spazio Arte Petrecca di Sernia sarà ospite fino al 24 ottobre la personale d'arte nel segno di Keziat i dettagli nel servizio di Barbara Fino Ospite della Galleria Spazio Arte Petrecca fino al 24 ottobre la mostra personale di arte contemporanea dell'artista Keziat a cura di Carmen D'Antonino e patrocinata dal comune di Sernia Keziat è una delle artiste più emblematiche dell'arte contemporanea con le sue opere che attraggono l'osservatore con simbolismi e una molteplicità di significati nelle sue tecniche la capacità di raffigurare in maniera unitaria un sogno un pensiero un'impensabile particolarità mi piace portare lo spettatore in un mondo irreale quindi proprio proiettarlo in una realtà che magari si avvicina più al sogno che alla realtà La carriera artistica di Keziat inizia nel 1998 con l'Accademia delle Belle Arti e nelle sue creazioni mette tutte le tecniche e le conoscenze acquisite disegno pittura carta o tela installazioni video per esprimere figure mai viste in un mondo fiabesco che apre le porte dell'essere umano Le opere di Keziat mi hanno colpito tantissimo tanto è vero che abbiamo deciso di raccontare la sua mostra all'interno dello spazio proprio seguendo il suo filo conduttore ovvero quello del sogno della narrazione ed sono due concettualità molto importanti per il visitatore perché quando entra all'interno di questo spazio si ritrova una moltitudine di opere con moltissimi personaggi personaggi che non sono neanche reali tanto è vero che sono anche di difficile decifrazione alcuni hanno come testa un monitor altri hanno come testa una scatola personaggi che si incamminano come in una favola L'apertura al pubblico della mostra per tutta la durata dell'esposizione è prevista dal martedì al sabato dalle 17 alle 20 Bene, era questo il nostro ultimo servizio si chiude qui l'edizione delle ore 14 del nostro telegiornale la linea passa adesso ai colleghi della redazione sportiva per il TG Sport a voi tutti buon pomeriggio grazie a tutti Grazie.